ecco in arrivo un regalino per te lo sai Ratchet lo sto facendo solo per il tuo bene oh si entro ma sono un grande ti sto battendo ti sto battendo prendi questo che te ne pare bamboccio è vero sono un super uomo è il colpo ragazzo un punto per te niente male per un pivello ma solo un graffio mi ricordo la mia prima battaglia quando ero ancora un sorcetto ma sei pazzo perché mi hai fatto una cosa del genere e cosa credi di fare ragazzo sei davvero nei guai in grossi guai credimi ragazzo mi sei sempre piaciuto e stavo solo seguendo degli ordini recetta vecchio mio perché non dimentichiamo il passato su mettiamoci una pietra sopra ehi hai capito ok basta con il riscaldamento ora facciamo sul serio divertito bene perché ora è il mio turno rotto figlio di ma che serve questo pulsante è il momento di un bel faccia a faccia e ora qualcosa di veramente personale Ratchet ha mai missili Ratchet ha mai i missili quei due buffoni non credevo avrebbero resistito anche a questo attacco l'ho sempre detto se vuoi un lavoro ben fatto devi farlo da solo pensi di avermi battuto eh prendimi adesso se ci riesci e questo amico mio è proprio la fine è stato un gioco da ragazzi facile come un bicchier d'acqua grazie grazie la replica sarà trasmessa alle 7 su canale 4073 non mancate giusto in tempo per un pranzetto cinese mayday mayday accidenti Ratchet sei stato veramente grande no ma no 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 Ciao!